Colpo fallito questa notte su Viale Amendola ad Eboli. I gnoti hanno provato a sradicare il bancomat di Unicredit Banca, non riuscendo però a trafugare il denaro presente al suo interno grazie ad un particolare sistema blindato. Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli agli ordini del capitano Luca Geminale. Dalle immagini della videosorveglianza si cercherà di risalire agli autori del tentativo di furto. Ad aver tentato il colpo, stando ai primi rilievi, quattro uomini incappucciati che avrebbero fatto saltare il bancomat con l'utilizzo di esplosivo.